E tra i giardini del covetto di Onato, passeggiando, ho visto due belle, ma più belle di così, non si può... Dave, se tu ti dovessi avvicinare e incufare un primo piano di questa bella ragazza, ti innamoreresti del sorriso, ma non solo tu. Quella a sinistra, la mia sinistra. Alla mia destra. Alla mia sinistra. Alla mia destra. Alla mia sinistra. Alla mia sinistra. C'è una ragazza che io la scoprirei tutta, perché Pina è tutta tatuata. Ovviamente sembra un po' la caccia tesora, vero? Sì, è vero. Ma chi sei? Mi chiamo Ambra. Ambra? Wow, il nome è un programma. Io già, sto già fantasticando, sto già immaginando una spiaggetta, un puntio. Comunque, tu giustamente sei venuto qua per? Festeggiare la mia festa, perché mi sposo. Quanti siete stasera? In due. Pokémon. Due? Io e la mia amica. Laura. Laura, guarda la telecamera. Laura, perché siete solo in due, chiedo a lei. Perché siamo poche intime, ma ci divertiamo come cento. Brava, brava, perché arrivate da lontano? Bergamo. Da vero, lontanissimo. Senti, Ambra. Mamma mia. Sei sicura di quello che stai facendo? Sicurissima. Mauro. Mauro, Mauro, Mauro. Mauro. Non era qua ieri sera, Mauro. Non era qua ieri sera? Non penso. Sì, quella ragazza, ma sì. Allora, lui è venuto su a chiedere, mi dice, Carlone, io avrei bisogno di andare a Cespuglio, c'era uno, due, tre, quattro, cinque, mi ha chiesto, qual è quello libro di Cespuglio? Io ho detto tre. Però mi sembra di dire che, Mauro, di Cespuglio tre c'erano le ortiche. Quindi, tu dovrei fare l'infermiera, vero? Eh sì, contenta, contentissima. Giocate alla malattia e alla dottoressa? Sì. Perché tu fai che lavoro? Scusami. Io faccio la pasticcera. Mamma mia. Bergamo? Bergamo. Dai il bigliettino a visita, vengo a mangiare due paste. Certo. Le fai tu? Certo. Tu marito, quindi, ti sposa perché? Tu sei un pasticcino? Sì. Mamma mia che dolce, Dave, Dave, che dolce. Ambra, quando vi sposate? A luglio, sabato prossimo. Ho chiesto il nome del tuo futuro marito? Sì, Mauro. E se ti Mauro, che lavoro fa? Mauro fa un disegnatore elettrico. Quindi disegnatore, proprio sono stessa cosa. Quindi vi auguro, vi auguro tanta felicità, tanta gioia. E vi sposate dove? A Bagnatica, in Comune. In Comune, ma lui è sempre di Bergamo. Di Bagnatica, sì, come me. Eh, va bene, va bene. Allora, scusate un attimino, io direi che per il momento da DJ Carlone, Ambra, e la nostra amica, Laura, che si divertiranno un mondo. Sì! Sulle mani mi fate. Sì! Sì! Sì!